Ciao amici del canale di Bobo Food. Allora, con tutto il mio cuore e il mio affetto per voi i miei migliori auguri alle vostre famiglie, ai vostri cari e che un 2022 di gioia e soprattutto di salute. Grazie a tutti i 540 cuori che mi seguono e sono emozionato ragazzi perché io speravo sinceramente di arrivare a mille però siamo già in tanti i 540. Fate una cosa, fatemi un regalo. Ogni persona che sente il video di auguri di Bobo Food dice ai propri familiari di iscriversi così vediamo se entro la mezzanotte arriviamo a mille, se arrivo a mille estrarò tre persone e se siete vicino a me a Torino andiamo a mangiarci una pizza offerta da Bobo Food. Poi chi vuole può partecipare, io offro la pizza a tre cuori ai miei follower. Adesso guardate cosa sto preparando per stasera. Il mio menù di capodanno sarà così, antipasti, salmone al naturale che uno se lo condisci con olio limone o con un burro aromatico che farò al rosmarino. Poi c'è i vulvan caldi con funghi, champignon, prosciutto, parmigiano, besciamella e pollo. Farò la ricetta oggi pomeriggio poi ve la metterò un ripieno fantastico per i vostri vulvan. Fatelo perché non c'è questo ripieno su internet. Poi acciuga al rosso, acciuga al verde, vitello tonnato, primi le pappardelle ragù di cinghiale, cinghiale con polenta, cotechino del macellaio Coalvi di Pia Sasco, Walter Sodo. Ringrazio la macelleria Sodo per questo fantastico cinghiale, 100 per cento piemontese e per il cotechino stupendo che andrò a cucinare più tardi. I cotechini freschi, mettete il cotechino zampone in acqua fredda da quando bolle due ore mi raccomando. Cotechino con lenticchie pure i due i due secondi. Poi ci saranno i dolcetti e pandoro e da bere. Io adesso questo preparando il cinghiale in salmì che andrò a condire le pappardelle. Una volta cotto di prendere un po' e lo farò al coltello più piccolo e poi lo servirò come secondo con un bel purè al parmigiano. Buonissimo. Adesso sta rosolando. Allora ragazzi la cacciagione, cinghiale, cervo, lepre, qualsiasi cosa, la fate marinare 24 ore. Allora la mia marinatura da cinghiale è stata fatta con sedano, carota, cipolle, 2 foglie d'alloro, 3 chiodi di garofano, 7, 8, 9 pallini di ginepro, cannella, noce moscata, sale, salvia, prezzemolo, cipolla rossa di tropea e l'ho fatto marinare e vino barbera, un vino forte per 24 ore. Una volta marinato fate un fondo di sedano, carota e cipolla e fate soffriggere la carne, fate tirare, vedi fuori l'acqua che sta tirando l'acqua fuori, vedete? Una volta che tira tutta l'acqua fuori, che è ben rosolata, salate e pepate, poi sfumate con il nuovo barbera pulito. Il vino della marinatura non va mai usato, mi raccomando, mai usato, perché nella marinatura c'è tutto il gusto forte della cacciagione, va sempre fatto con vino fresco, ok? Una volta sfumato, evaporato, mettete un po' di passato di pomodoro e coprite con acqua calda. Una volta che prende il bollore, fate cuocere a fuoco basso per almeno due ore e mezzo. Il gioco è fatto, poi una volta finito, prendete una parte di cinghiale in salmì, la fate più piccola per condirvi le tagliatelle, le pappardelle o i paccheri, quello che vi piace a voi. Ma mi raccomando, no spaghetti, non penne, pappardelle, tagliatelle, paccheri o strozzapretti, quello, ok? Adesso il bobo continua la preparazione. Vi auguro un buon Natale a tutti i miei iscritti, sia del mio canale Bobo Food e del mio nuovo canale Vipior Bassano di Meteorologia. Andate anche lì a iscrivervi, mi fate felice. Seguitemi anche su Instagram a Bobo79 e lì ci saranno gli spoiler delle cose nuove e su Facebook Bobo Food. Ancora grazie dal vostro Bobo e ricorda che Bobo Food è la cucina italiana. Ciao ragazzi, buon anno. Dopo vado a farmi la barba, buon anno. Ciao, vi faccio vedere, ciao.